Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Neon Replicant Bene andiamo pure dal tipo per fare il nostro viaggetto Andiamo a fare la missione a facciata lì come cazzo si chiama Dobbiamo andare al matrimonio ok Deserto ok così andiamo a sto matrimonio vediamo un po' che succede Cidenti Sì io sarei tanto felice se riuscissi a pescare di nuovo ma ci riprovo è giusto con voi però Sono sicuro che non ce la farò non so come ho fatto l'ultima volta Vedete poi non lo perde neanche È uno stress io spero che sia un problema di pace o qualcosa perché è impescabile Vedete non sono riuscito a far da solo cioè non la maggior parte delle volte non ti dà modo di interagire Quando te lo dà o è una scarpa cioè un secchio o una latina o un coso di lottami E vedete cioè è stressantissimo fare questa questa è una cosa veramente allucinogena in più è difficilissimo Tutti le guide che ho visto ci hanno messo tutti tantissimo a farla ed è un casino E io non ho capito bene come farlo con il problema Ok è questo questo qui vedete che si muove direte sarà un gran pesce questo no invece quel cazzo non è un pesce per un cazzo guardate Che lo so già perché l'ho piscato milioni di volte ormai sono qui da una vita Lo posso andare un po' fa guardate Guardate cosa viene su un pesce Secondo voi sto coso si poteva muovere così dai E' una presa per il culo Santa miseria che c'è il razzo di roba Peccato aver vado in base anche a livello giocatore che sarebbe più facile pescare Sarebbe anche molto meglio Purtroppo non è così Allora andiamo a funerare questo matrimonio Lupi? Ma è un po' che non c'erano i lupi Strano Per carità magari servono Ho preso le zanne e cose vari però Va bene Eccoci qua possiamo andare a matrimonio e a comprare varie cose E lei è rimasta lì Non si può parlare ovviamente Lui vuole quelle fiori adesso le prenderò Penso che devo andare a dare così a naso E andiamo Vediamo che succede Mi sono sbagliato No c'è uno Questo Eh che bello Dovrei averne una Ok Non sono sicuro di averne Il cristallo non ho proprio idea di dove sia Missioni Ok vedete Il cristallo non ho assolutamente idea di dove reperirlo Certo che un po' di informazioni le avrei gradite Non si capisce mai un cazzo Non si capisce Porca di quella vacca Allora andiamo di qua E andiamo 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 Vediamo 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 il resto abbiamo tutto quanto Pelle di lupo Porca tre quanto costa Sì ma porca misera Quanto mi fai costare cose Vabbè da bene o male Abbiamo molto Spero che non ci saranno molte pelle di lupo Perché non viene un colpo 5.000 Quindi ovviamente le costa 2.500 Interessante Ok siamo a posto Quindi questa Ok grazie Questa cosa è fatta Adesso giro un attimo qua Perché quante cose ci saranno Eh Allora una minimappa qualcosa Vediamo Vediamo un po' Anche se no Ovviamente è un macello Sì c'è qualcosa qua La vedo La vedo La vedo Ok Ah no Questa è quella Che vuole i fiori Accidenti Mi ero illusionato Allora Vediamo se Ha delle nuove armi Questa Non te te Questa Ok Ok 30 E vedete come vanno via Subito in fretta i soldi E abbiamo preso anche questa Sì sì Un Zaza Ma abbiamo chiamato un cazzo di quello che ha detto Ok Non dovremmo esserci più niente Spero Che abbiamo fatto il giro E quindi possiamo andare tranquillamente A dirgli al tipo Che abbiamo requisito Perquisito Ricoperato I materiali E non mi veniva la parola Che ti vuole farci Eccoci qua I've got your things Stun Kuikyo What manner of ceremony is this? Kaizamuza Arutelua Kuru That's a pretty specialized mass Ato Quanto l'ho pagato Bill Vabbè da 10.000 Va bene Io Oh Adesso posso andare qui Certo che voglio entrare Devo fare la missione Oh Interessante Ah non è che ho tanta scelta Ok Ok Ah Kakele We hear your days of bachelorhood are coming to a close Congrats Forgive my prime but we are all eager to know the identity Kitsuree kita Usai kiori Abe Uuu ma becice Hold on Fira Hmm You have grown into a fine example of womanhood I'm sure you will make a splenkinese gonna wanna see this Hahaha Da See Irasuota sattara Gintosonki shti Dei tzuri datta laki Oh Emile sai Pleased to make your acquaintance your royalness Congratul Tak Um I'm sorry Kaine's not here Kekot Gurnaro Ittish Dei tzuri datti Tocchi Edo Yolusere Yolusatachi Tutti tesli Of course How could we refuse Bene Finalmente un po' di gioia Un po' di giubilo La notte prima del matrimonio Dire che succede qualcosa eh Oh salve signorina To think They even have rules governing the timing and water temperature of a bath Hehehe What's it to you? You don't even take baths That's a fatty Kaine Of lingerie For the festivities Some spring colors Keep talking book Mhmm Mamma mia Let's see how smug you are when I toss you on a campfire Vabbè Come simpatica Il campfire Il campetto di fuoco Ciao Emile Oh Allora qui Oh Stanza reale Mhmm Mhmm Yeah That's not exactly it Riu Tutti tutti i cittoi e i mostro di un po' di un tempo. C'è stato. C'è stato il momento di resta e di resta... E anche, ti vogliono farlo senza di Fira, certo? Oggi, vita è meglio quando hai qualcuno che ha lavorato. Altra è una sua vita. Una sua vita... Alla... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. E quindi dobbiamo farlo noi. Ha già sparita. Beh, peggio, no, 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 no. beh, impegnativo questo non lo è stato poi vedremo, ovviamente ah, devo andare qua prepariamoci, siamo già preparati vediamo un po' come siamo messi sì, sì tanto per ribellare non ci provo neanche andiamo pure dove sarà? ok, andiamo a vendicarla i ragazzi, i ragazzi che i ragazzi e i ragazzi sono già un ragazzo io sono un ragazzo i ragazzi che hanno attaccato sono solo una parte del pack come si chiuderemo? nonostante allora lo sconchiamo è quello che ci dice non lo facciamo per te, dama è per Fira è vero, vabbè Beh insomma Oh Antico sovrano Ovviamente l'ho male fatta vedere Quindi non so un cazzo se è buono o no Cazzo mu acura Zergaan utzu To sake da これで Sato Arter Arter wa to ya li la Fyia gikita Tato sa da Kira tsyo riuta ta kitsji Riu riu Tyn Jori uai soto Fyia to tzu datta Ah Tyn Anta da se Tyn Toshiken Yuu Kaisamutek Anda Luami Ska Anda Ie Fyia Rote to ya li kaki so dekita To Kuita Gilda Ura Ura Rote to kaisamutek 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 Aito Fyia Aito E Fyia Zergaanutek Zergaanutek Anda Zergaan Yarnitu Gatshik Kaisamutek Zergaanutek Rotei 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 Arum Arum Uki Eltotek Gisant Tekita Arum Grazie a tutti. E' per Fira. Ok, direi che mi hanno spaccato il culo, tutti i piccoli. Questi casi proteggono un po' tutti, eh, ma... ...dovevo neanche a copirli. I piccoli uomini non sono infectati da scuola, ma come per il leader, se anche una scuola sia qui, allora devo maturare tutti. Eccolo! 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 Sì, non è vero. Nell'occhio Oh Ah questo è il famoso cerebro Care a tua testa Però vabbè I believe that young Fira Was perfectly content with the life she Of course Does this not sound She was terribly proud of her king And now you must do all you can To honor her memory Is that another infernal rule? La no perua Tonri Arter And that tosh tosh Arlo E quindi lasciamolo solo Oh Fly è stata veramente triste Ok mamma mia Bene ragazzi Direi che ci possiamo Anche salutare qui Per questo video è tutto Vi invito come al solito A lasciare un like E un commento Se mi piace alla serie Di farmi sapere cosa ne pensate Per adesso vi saluto a Siva Ciao ciao Ciao